La tritereumatoide è una malattia sistemica che significa che interessa tutto l'organismo con una maggiore evidenza per le articolazioni, da qui il nome e da qui anche la sintomatologia più evidente, dovuta a cause autoimmunitarie, cioè a dei meccanismi di alterazione del funzionamento del sistema immunitario che si rende aggressivo nei confronti del proprio stesso organismo. È una malattia cronica che di per sé, se non trattata, avrebbe una progressione dal punto di vista articolare anche dal punto di vista dell'impegno di organi interni, soprattutto dal punto di vista articolare, che porterebbe il paziente a una disabilità, a un'invalidità permanente. Relativamente a questa malattia ci sono alcuni falsi miti, una che sia una malattia dell'anziano, ma questo è un falso mito di tutte le malattie reumatiche. Nel sentire popolare i reumatismi sono identificati come patologie dell'anziano e patologie progressive, con la progressione dell'età. In realtà questo è molto vero ovviamente per l'artrosi, è la malattia più comune, però per molti aspetti le malattie reumatologiche invece sono malattie che interessano una popolazione giovanile, una popolazione quindi attiva, una popolazione in cui è molto importante controllare l'attività di malattia per mantenere non solo la vita attiva, l'inserimento sociale, l'attività lavorativa, ma anche legittime prospettive di vita, come può essere la gravidanza. Un altro falso mito è che l'artrite reumatoide sia esclusivamente una attrite, cioè una malattia delle articolazioni e la malattia è sistemica prima di tutto, cioè di tutto l'organismo, perché il meccanismo autoimmune fa sì che sia impegnato tutto l'organismo e infatti può colpire organi interni che possono essere soprattutto il polmone, ma anche la pleura, il pericardio, l'occhio, la cute, il sistema nervoso periferico e poi l'infiammazione cronica che è alla base di questa malattia che noi dobbiamo controllare con la terapia è anche un grosso fattore di rischio, un importante fattore di rischio dal punto di vista cardiovascolare che si aggiunge ai fattori fattori di rischio classici come possono essere l'obesità, il fumo, l'ipercolesterolemia o l'ipertensione arteriosa, quindi un fattore ulteriormente aggiuntivo di rischio cardiovascolare. La prevalenza dell'artrite reumatoide, cioè quanti pazienti sono affetti dall'artrite reumatoide in questo momento e nei paesi occidentali tra lo 0,4 e lo 0,8% della popolazione, il che significa ad esempio che un medico di medicina generale è in media tra i 4 e gli 8 pazienti. Molte di queste malattie autoimmuni sono più frequenti nel sesso femminile. Il divario è molto elevato ad esempio nel lupus con un rapporto 9-1 ma anche nell'artrite reumatoide con un rapporto che varia da 2-1 a 4-1. I motivi sono molteplici ma la prevalente motivazione è la relazione tra attività ormonale e sistema immunitario che in una condizione di sistema immunitario alterato nel suo funzionamento si renda ancora più evidente. Questo aspetto della patologia di genere è molto importante per quanto riguarda poi le prospettive di gravidanza che comunque oggi non sono praticamente più controindicate per nessuna paziente. L'importante comunque è programmare la gravidanza e seguire gli schemi terapeutici durante la gravidanza stessa. Un quesito che viene posto spesso dai pazienti è la differenza tra artrosi e artrite. L'artrosi è una malattia degenerativa con una bassa attività infiammatoria che si sviluppa col progredire dell'età. L'artrite invece ha nell'infiammazione la sua manifestazione principale. La caratteristica principale quindi è il dolore a carico delle articolazioni che contrariamente a quello dell'artrosi che è prevalentemente serale ha uno sviluppo nelle ultime ore della notte e nelle prime ore del mattino con dei sintomi molto evidenti a risveglio che devono subito portare il paziente a parlarne con il proprio medico di medicina generale. Questo fenomeno del dolore prevalentemente mattutino che caratterizza il cosiddetto dolore infiammatorio è il primo campanello d'allarme. Le articolazioni spesso anche all'esordio, anche se non molto evidenti, magari in modo non molto evidenti sono anche gonfie tomefatte e quindi non solo dolenti ma soprattutto questa sintomatologia mattutina che si caratterizza sia per dolore sia per rigidità, cioè difficoltà a muoversi al mattino per una durata che inizialmente può essere di mezz'ora ma con il tempo se non ci sono trattamenti può superare anche l'ora e anche arrivare a manifestarsi per molte ore nella giornata che migliora con il movimento questi sono i campanelli d'allarme. Su questo si è costruito il modello della cosiddetta diagnosi precoce della tritereumatoide. Per la tritereumatoide non abbiamo a disposizione strumenti per la prevenzione, abbiamo strumenti soltanto per la diagnosi precoce, però questi sintomi premonitori riferiti al medico di medicina generale che oggi conosce bene questi sintomi di allarme fanno partire poi il percorso che comprende ovviamente la visita reumatologica, alcuni accertamenti di laboratorio e alcuni approfondimenti di tipo radiologico e di tipo ecografico.